Abbiamo la responsabilità di avere un territorio libero da rifiuti ingombranti e quanto sostenuto da Cono Delia, sindaco di Morigerati, nonché vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in merito al nuovo progetto promosso dal Parco, inerente in adeguate ed efficace raccolta dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che risultano essere dannose per l'ambiente. Il progetto partirà nel prossimo mese di ottobre nelle scuole e presso le comunità di cittadini. Penso che abbiamo già condiviso con il colonnello Guariglia l'idea a questo punto di acquisire una serie di elementi utili per evitare che dei percorsi poco trasparenti possano essere utilizzati nei nostri territori. Noi abbiamo questa grossa responsabilità di avere un territorio libero da rifiuti ingombranti. Oggi è stato molto utile questo incontro perché ci ha fatto capire e ci ha dato anche l'idea di che cosa noi possiamo fare, anche come sia come ente, sia per quanto riguarda lo stimolo, ma anche per una capacità di controllo. E quindi noi riteniamo che già dalla prossima settimana metteremo in campo una serie di azioni che serviranno ad avere un territorio sicuramente più pulito e anche attraverso un controllo. Perché credo che oggi, quindi non basta solo la sensibilizzazione, va bene la sensibilizzazione ma poi anche una capacità di controllare e anche di sanzionare dove esiste il problema. Questo sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni sia per quanto riguarda gli operatori. Perché oggi abbiamo capito che ci sono dei percorsi virtuosi e ci sono dei percorsi che vanno dove bisogna un po' chiarire la responsabilità e i ruoli. Ebbene, noi come Parco, attraverso il colonnello Guariglia, quindi i carabellini forestali, metteremo in campo una serie di azioni di controllo per evitare che questi fenomeni possano continuare ad esistere nel nostro territorio.